ed eccoci qui al motta ce l'abbiamo fatta 2800 metri sempre in pantaloncini corti ovviamente perché a salire anche se fine marzo ma si suda e c'è un vento che ti secca un po' la faccia però nonostante tutto fa caldo adesso la parte più bella ma forse un po più difficile dipende un po ossia bisogna scendere senza ammazzarsi perché salire è una cosa ma scendere è un bel casino comunque non poteva capitarmi giornata migliore ah questo tra l'altro è l'arrivo dello ski lift che non so più se sarà in funzione comunque è così è nulla questo è il panorama bellissimo c'è nessuno e adesso proviamo a scendere senza ammazzarci e questo è veramente l'arrivo dove si lascia il piattello e quindi poi inizia la pista poco più avanti in là è nulla bella lì da dopo guarda 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 para Grazie a tutti.